Andiamo adesso a Chieti dove dovrebbe essere terminata da poco la riunione della martedì in prefettura, sempre oggetto la campagna vaccinale. Per noi in diretta, Gigliola Edmondo. Gigliola, buongiorno. Sì Marina, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Reteotto, Reteotto.it con Andrea Berardinelli. Ci troviamo in prefettura a Chieti, si è da poco conclusa la riunione, la tredicesima riunione che è stata coordinata da sua eccellenza il prefetto, il dottor Armando Forgione e dal direttore generale della ASL, Lanciano Vasto Chieti, il dottor Thomas Schell. Dicevo se è da poco conclusa il tavolo che ha un nome, Salus et Spes, dal latino traduco salute che ha una duplice valenza, salute e sicurezza ma anche speranza. In collegamento da remoto a alcuni comuni della provincia di Chieti si sono stati individuati i punti in cui proseguire la vaccinazione anti-Covid. Io chiedo subito al prefetto come è stata strutturata questa riunione e cosa avete deciso. Grazie, diciamo che la riunione ha proseguito sulla scia delle precedenti. Noi siamo partiti a fine gennaio, voglio ricordarlo, grazie a una intuizione che ha avuto il dottor Schell di prevedere che si stava andando verso la terza ondata. Quindi di prevenirla quanto più possibile avviando una campagna di screening di massa. Grazie all'adesione che tutti i sindaci della provincia, soprattutto quelli che poi si sono fatti carico di organizzare i punti dove andare a fare questo screening di massa, siamo riusciti a enucleare quasi mille contagiati che erano tutti asintomatici. Questo ha cercato di porre un freno a quello che era il contagio che si sviluppava e si stava sviluppando, ma questo screening di massa è servito anche per sperimentare i punti nei quali andare a organizzare le vaccinazioni. Già dalla settimana scorsa, come avete potuto verificare anche qui a Chieti soprattutto, si è partito con il Palauda presso l'Università d'Annunzio, dove c'è stata una poderosa campagna vaccinale che ha permesso di vaccinare queste categorie che oggi sono oggetto della vaccinazione, che diciamo soprattutto verso gli over 80, che sono le persone anziane verso cui indirizziamo questa prima fase di vaccinazione. Oggi la riunione ha permesso di allargare ancora più il campo perché, come sapete già da questo weekend scorso e da oggi, ci sono 10 comuni che sono entrati in zona rossa. A questi 10 comuni erano oggi qui convocati, insieme al Presidente della provincia e al Sindaco del Comune di Chieti, che non è più zona rossa ma che comunque registra ed è un po' capofila di certe situazioni. A questi 10 comuni, a loro, sarà indirizzata la campagna vaccinale per gli over 80. A questi comuni però aggiungeremo, e poi sarà più preciso il dottor Scheel, altri 18 comuni che non sono zona rossa ma che hanno prevalenza di contagio e destano qualche preoccupazione, per cui anche questi comuni faranno parte del novero di quelli verso i quali indirizzare la vaccinazione. Qual è stato il motivo, il light motive che un po' tutti hanno voluto rappresentare? Che c'è questa esigenza di vaccinare. Noi oggi abbiamo, voglio dire, registrato e abbiamo voluto confermare che la vaccinazione procederà anche celermente, qualora ci sia la disponibilità dei vaccini, perché ci scontriamo con una disponibilità, diciamo, non quella che avremmo voluto, la voglio mettere così per non, diciamo, polemizzare, perché non è mia abitudine a farlo, però avremmo voluto un numero maggiore di vaccini per poter raggiungere l'obiettivo della vaccinazione degli over 80 in un periodo molto più ristretto. Così non è stato, ma io vorrei dire a beneficio di tutti gli altri, voi sapete sono 104 i comuni qua in questa provincia, vorrei dire a beneficio di tutti i sindaci di quei comuni che oggi non erano rappresentati qui e verso i quali non si inizia subito a vaccinare, che non si procederà a vaccinare nessun'altra categoria di età se non completeremo prima gli over 80 in tutta la provincia. Noi cominciamo da quelli della zona rossa, proseguiamo verso quelli dove c'è prevalenza di contagio, ma non finiremo e non passeremo ad altro se non prima completiamo il quadro degli over 80. Ecco, lo voglio dire perché questa è una comunicazione importante, voi siete molto vicini a dare comunicazioni, la mia positività non è soltanto per fare un proclama, ma è proprio per rassicurare i cittadini perché non si procederà ulteriormente se non prima terminiamo con gli over 80 in tutta la provincia. E io la ringrazio, la ringrazio di questo. Grazie per questa precisazione perché ci sono arrivate anche numerose sollecitazioni. Dottor Scelle, dunque come verrà dislocata e come verrà organizzata questa vaccinazione e soprattutto quali vaccini verranno somministrati? Noi somministriamo, giusto per dire questo, tutti e tre vaccini in questo momento autorizzato, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Chiaramente per gli over 80 sono indicato più Moderna e Pfizer, di cui Pfizer farà da padrone perché tre quarti dei vaccini fino ad adesso arrivati in questa provincia sono Pfizer. Dove vacciniamo, chiaramente noi abbiamo definito nel piano vaccinale della regione Abruzzo i punti vaccinali cosiddetti happy spoke, ma da questa settimana incominciamo anche a vaccinare a domicilio. Noi avremo delle squadre, due squadre che andranno dagli over 80, che non possono recarsi in un punto vaccinale e questo chiaramente sarà un altro elemento molto importante per completare. 28 comuni in piano vaccinale, noi abbiamo ancora 30.000 dosi necessarie per vaccinare tutti i loro 80, per cui ci vorrà qualche settimana, ma come ha già detto il prefetto, vaccineriamo tutta la provincia e non ci fermiamo. Grazie al prefetto, al dottor Schell, ad Andrea Berardinelli. Io voglio ringraziare particolarmente per la preziosa collaborazione qui in prefettura anche la dottoressa Cinzia Di Vincenzo. Marina, se non hai delle domande ti restituirei la linea. Grazie a tutti.